Ciao tesori e bentornati sul canale! Allora, lo so, vi avevo promesso il video giovedì o venerdì, ma ho un'ottima scusa. Ho pensato che avrei dovuto fare il video Scopriamo di fretta e appunto proprio per fare il video. E penso sia una cosa che né io né voi ci meritiamo, cioè... Non va bene che io vi dia un video solo perché devo fare un video. Infatti ho preferito posticipare semplicemente di qualche giorno, adesso è sabato mattina, e devo dire che ho proprio voglia, voglia, tantissima voglia di creare con la resina. E quindi, niente, penso che questa sia la cosa più giusta, quindi spero possiate perdonare questo mio piccolo ritardo. Ed infatti, oggi ho pensato di creare con voi, con la resina, perché ho intenzione di fare tanti effettini particolari. Voglio fare l'effetto mare, cioè delle tavole Ouija con l'effetto mare, una Ouija con l'effetto nuvole. Insomma, utilizzerò tantissimo l'effetto che vi ho fatto vedere l'altra volta con il silicone spray, sperimenteremo tantissimo in questo video. E poi domani girerò, lo scopriamo, delle cose che realizzerò oggi. E come vi dicevo, visto che ho proprio tanta voglia di creare con la resina, di rilassarmi con questi effetti, farò anche un bel po' di creazioni. Adesso vado a mescolare la resina e ci vediamo fra poco. Allora, ho tirato fuori un bel po' di pigmenti da utilizzare perché, ve l'ho detto, voglio sperimentare tanto e voglio provare tutti i vari tipi di pigmenti, quelli in polvere. Ci sono questi della Resin Pro. Anche questi della Resin Pro che ho provato pochissimo, ma secondo me sono molto validi e molto comodi da utilizzare. Questi della Reschimica che ho già provato e mi sono piaciuti un botto, sono bellissimi. I glitter non li utilizzerò, ma andrò ad utilizzare queste polveri glitterate barra perlate che fanno un effetto bellissimo di Sparkly Tracer Shop. Utilizzerò anche i pignata perché, appunto, come vi dicevo, voglio vedere tutti i vari effetti. Eccoci qui, la resina è pronta e adesso andrò a realizzare i tre colori per il mare. Servirà quello più scuro, molto coprente, man mano la coprenza andrà a diminuire. Realizziamo quindi il colore di fondo del mare. Utilizzo questo, pigmento neon. Con questi mi sto trovando molto bene perché... Ecco, pensavo che il fluo non mi piacesse. In realtà è un effetto molto molto utile nelle creazioni, cioè per colorare la resina. E ti dà un colore bello acceso subito. Ecco qua, tolto il tappino. Mi sono pure sporcata tutto il pandalone, ma non fa niente. Allora, questo devo anche fare in fretta perché questa è una resina veloce e più grammi di resina andate a creare, più le resine veloci sono più veloci. Quindi devo fare abbastanza in fretta. Allora, rimane qualche grumetto. La cosa non mi piace molto, però vabbè, vediamo di toglierlo. È proprio un bel blu. Mi piace, mi piace. Mettiamone un altro po' e aggiungerei una puntina di nero per andare a scurire. Come nero utilizzo l'acrilico della Vallejo, ma vedete ne ho messo proprio giusto due gocce. Intanto, vi ripeto, quando create con le resine veloci magari fate così ogni totto per controllare la temperatura della resina nel bicchiere. Ok, guardate qui che bel blu. Per renderlo un pochino più realistico vado ad aggiungere un pizzichino di verde. E utilizzerò questo, della Resin Pro. Anche qui un goccino, goccino, goccino. Vediamo. Questo l'ho reso subito molto, molto, molto più coprente. Me l'ha fatto anche un po' più chiaro. Mi piaceva di più prima. Altro nero. Poi come verde utilizzo questo vignata. Vediamo cosa esce fuori. Potrebbe anche andare, potrebbe, ma non ci accontentiamo del potrebbe. Così alla fine è venuto un pochino, un pochino più verde. La coprenza direi che va bene. Adesso andiamo a creare il verde. Che verrà più verde. Allora, questo non lo userei perché... Troppa coprenza. È una coprenza troppo, troppo alta. Andiamo ad utilizzare questo, così. Poi metto il pignata blu. E vediamo un po' cosa esce fuori. Potrebbe andarmi bene, potrebbe andarmi bene. Quindi aggiungiamo un goccino, goccino di questo verde. Ecco qui. Colore. Va bene, adesso creiamo quello intermedio. Mettiamoci più gocce di questo. Poi andiamo ad utilizzare quest'altro pigmento neon, che è quello celeste. Sempre devo togliere sto tappo. Ok. Comparsimonia. Comparsimonia. Fare e colpire. Andiamo, andiamo, andiamo. Più verde, più verde. Ma perché non vengono verdi, Stigul? Lo voglio verde, voglio il mare della Sardegna. Datemi il mare della Sardegna. Raga, ma sul serio? Ma veramente? Ma perché questa cosa oggi? Va bene, io ci metto questo. Ma perché questo è un verde acqua. Un verde acqua che deve farti venire verde acqua. Oh, e allora? Ok. Più verde, più verde! Davani poco verde. Mare radioattivo. Allora, adesso andrei ad aggiustare un attimo il colore finale, che voglio, indovinate? Più verde. Vediamo. Ci ho messo un bel po' di gocce del pignata. Evidentemente non bastano. Raga, ma inizio a pensare che è sto pignata che non è verde. Inizio a pensare questo. Io non sto sbagliando niente. È il pignata che non è verde. Adesso, nel bicchierino piccolo, andiamo a creare il bianco. Oh, annaggia, ma è bruato! È nuovo! Ok, allora mettiamo qualche gocce, però mi sa che mi darà tante soddisfazioni questo colorante. Allora, per questo devo agitare con un bastoncino diverso. Bellissimo! Questo mi piace tantissimo. Questo bianco mi piace tantissimo. Allora creiamo il bianco più coprente che ci servirà per la spuma, proprio quella finale delle onde. Mettiamone un bel po'. Benissimo! Comunque adoro questi colori dell'aria schimica perché hanno un finish soffuso. Non so come devo spiegare. È un po' soffuso. Ora, il silicone spray vado a metterlo solo in questi due colori, quindi solo nei bianchi. Molto bene! Adesso arriva il momento divertente. Allora, vado a mettere il colore più scuro e questa cosa dovrà essere fatta in modo anche molto veloce. Allora, dunque, colore più scuro. Poi il colore più chiaro. E aspettate che, visto che si sta facendo caldo, lo metto anche nelle planchette che volevo fare. Ah, no, 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 tu non dovresti stare lì, non dovresti. Mettiamo questo. Ok, e adesso serve l'ultimo. Ce lo mettiamo subito. Qui non so se verrà l'effetto mare. L'esino non dà il tempo di pensare. Oh, mamma mia. Ok. Dobbiamo mettere il bianco, quello... Ah, no, aspettate, allora, prima vado a stendere un attimo sti colori che... No, vado a mettere questo. Così. E poi questo qui. Così. Prendo la nostra fidata bustina di plastica e vado a creare le onde. Olè! Mio Dio! Quanto adoro sta cosa. Quanto l'adoro. Tantissimo. Ma ma speriamo che questo sotto si veda. Vedete che si vede sotto? Boh, vabbè. Mettiamone un po' qua. Almeno so che un minimo di effetto lo vediamo pure dall'altro lato. Altrimenti qua non c'è proprio niente. Facciamo pure un po' così. Aspettate, lo devo pulire. Perché va pulito? Non fate in me cosa arronzata. Non fate in me cosa arronzata una cosa. Allora. Dunque. Perché dovete sapere che poi mi sta venendo il dubbio. Perché questo è un effetto che appunto va visto dalla... Cioè, così, da come lo fai. Quindi... Mi sto chiedendo. Ma verrà qualcosa sotto? Oh, no. Oh, no. Boh. Ragazzi, spero di sì. Spero vivamente che qualcosa sotto venga perché altrimenti... Eh, vabbè. Altrimenti ce lo teniamo così. Vabbè. Questi li possiamo utilizzare pure a capa sotto. Questo non fa niente. Vedete che faccio? Mi faccio dell'altra resina bianca con il silicone perché voglio fare l'effetto... Altro effetto onda qui. Nel caso in cui tutto ciò non si veda sotto. Sì, raga, ho sbagliato. Allora, ho sbagliato perché dovevo fare prima tutto l'effetto bianco. E lasciare un po' asciugare. E poi ci dovevo fare sopra questo effetto qua. E visto? Bell. Però no, no. Secondo me comunque non veniva. Perché poi non si sarebbe mescolato con gli altri colori. Quindi, cioè, alla fine niente, raga, dobbiamo solo sperare che si veda qualcosa anche sotto. Visto che so che quella Ouija verrà malissimo, qui ci volevo fare l'effetto nuvole al tramonto. Ma utilizzeremo la carta dei tarocchi per questo. Quindi ho preparato qui altra resina. Adesso proviamo in un modo diverso. Dunque, mettiamo quella trasparente. Allora, adesso mettiamo prima questo meno coprente. Mettiamo quello più coprente. E così creo le mie onde. No, non potevo accettare il fallimento. Io avrò la Ouija effetto mare. E basta. Il fatto, sapete qual è? Che io so benissimo che più si muove questa resina col silicone, e più, quell'effetto, cioè, ci allontaniamo da quell'effetto. Vedi? Io lo so. Io lo so. Quindi perché continuo a muoverlo? Va bene. Quindi adesso questo lo lascio catalizzare. Non lo muoviamo. Statti qua. Proverei a salvare questo. Perché comunque la resina ce l'ho sprecata. e so per certo che sotto non verrà niente. Quindi potrei utilizzarlo appunto come vassoietto. E visto che c'ho il bianco qua, io direi di provare. Ma sì, proviamo. Vediamo un po' cosa esce fuori. Così. E sapete cosa facciamo adesso? Prendiamo dei pezzettini di legno, come fanno le americane. Facciamo pure la scoglie. Acqua, perché qui c'è l'errore. Però questa dovrebbe essere la riva, la scogliera riva. Vabbè, fa niente. Eh vabbè, ormai l'ho fatto. Io sono proprio una cosa... Allora, aspettate, è un altro scoglio. Mettiamone un altro qua. Qua facciamo la zona degli scogli. Mo' dobbiamo farci infrangere le onde. Mo' voglio vedere come me la porto la resina da qua in mezzo. Allora. Dunque, qua mi serve la bustina. Una bustina più piccola. Quindi, vediamo se questa funge. Vai, vai, onde, forza! Voglio le onde, voglio le onde! Dai! Allora, adesso faccio catalizzare un po' questa. La tengo qua così. E dopo, quando è un po' catalizzata, la mettiamo qua sugli scogli, facendo proprio l'effetto... Va bene, a mo' te ne puoi andare un'altra volta. Ok, adesso, con la stessa tecnica, vorrei fare l'effetto nuvolette. metto un po' di resina trasparente. La stendiamo. E questa, appunto, è la carta dei tarocchi della luna. Mi sembrava si prestasse perfettamente allo scopo. E qui ora vado a creare il colore delle nuvole. Voglio creare l'effetto tramonto, quindi andremo a fare delle nuvolette rosa. Vorrei mettere un goccio di questo rosa, che mi sembra perfetto. Ok, dai, va bene. E adesso, in questo colore, metto questa polverina di Sparkly Treasure Shop. che, no, vi assicuro l'effetto è stupendo. Quasi, quasi, questo non lo mescolo nemmeno tantissimo. Non volevo mischiarlo molto, ma vabbè. Metto il silicone in questo colore e inizio a mettere qualche nuvoletta. Allora, mettiamolo soprattutto in basso. Facciamone una grande in basso. Adesso vado a scurire sempre questo colore qui. Perfetto. Oh, piano! Allora vai! Ok, rifaccio la cosa della bustina. La cosa della bustina. Chissà cosa verrà sotto. Questo effetto è proprio... È imprevedibile. Non... Al momento non ho proprio idea. Provo, beh, di andare a scurire ulteriormente con The Blue. Non sto per dare un po' d'ombra alle nuvole, ma... Vi ripeto, cioè, io sto facendo tutti questi ragionamenti, ma alla fine, dall'altro lato... Cosa sarà succedendo? Va bene. Basta. Adesso ci faccio una spruzzatina. Non ci posso credere! Ma perché? Ok. Non ho scelto niente. Non ho scelto niente. Sì? Uhuhuhuhu. Ma tanto dall'altro lato non verrà niente. Già lo so. Adesso, con questo po' di resina avanzata, vado a creare delle pietre con la foglia oro. Però ne metto un po' anche proprio sullo stampo. Ok, tesori, adesso penso che diterò il video perché ho mezz'ora di registrazione e comunque abbiamo fatto un bel po' insieme. Spero vi siate divertiti e adesso ovviamente andrò a completare questo colando, una volta catalizzato questo strato, i vari colori del mare che abbiamo fatto a inizio video. E poi andrò a colare altre cosine, voglio fare anche tipo questa sfera di cristallo con lo stesso procedimento che ho usato per le nuvole, farci appunto la nube qui, la nube messaggera. Collerò anche altre cosine che vi farò vedere, domani ne lo scopriamo. Io spero tantissimo che vi sia piaciuto questo scleriamo insieme perché io così lo chiamerò scleriamo insieme con la resina. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete dei suggerimenti. Noi ci vediamo domani con lo scopriamo, non vedo l'ora. Grazie mille per seguirmi e sostenermi sempre. Vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!